L'ultimo weekend di novembre si conclude con l'ultimo appuntamento ufficiale per i piloti del moto mondiale. Bandiera scacchi sulla 100 km dei campioni sulle strade sterrate del Renci di Tavuglia, che ha visto salire inaspettatamente sul gradino più alto del podio la coppia Bartolini-Baldassarri. All'ottava edizione, divenuto ormai un appuntamento tradizionale per salutare la stagione appena conclusa sulle due ruote, la coppia Valentino Rossi-Marini ha chiuso al secondo posto, davanti a Vietti Antonelli III. A darsi battaglia anche il fresco campione del mondo Pecco Bagnaia, che ha tagliato il traguardo al quinto posto in coppia con Bezzecchi. Gara di flat track è poco fortunata per Andrea Dovizioso, che dopo aver appeso il casco al chiodo dopo la sua ultima stagione in MotoGP, chiude l'anno con un tredicesimo posto. Chiude il weekend con l'ennesima vittoria invece la VL, che domenica pomeriggio ha battuto Sassari per 81-75, ottenendo la sua quinta vittoria in campionato salendo al quinto posto in classifica. Secondo successo di fila che ha coinciso anche con un Abdur Rahman, miglior marcatore dei suoi, con 26 punti e 3 rimbalzi. Se la Pesaro del basket sorride, la Pesaro del calcio fatica a farlo. Per la Vis, quinta sconfitta nelle ultime otto, arrivata sul campo di un'attrezzata Virtus Entella, che si conferma al terzo posto superando i biancorossi per 2-1. Inutile il rigore trasformato nel finale da fedato, con la squadra di Mister Sassarini che si ferma così al quattordicesimo posto ad un punto dai play-out. Vis che proverà in questo turno infrasettimanale a riscattarsi contro un ostico Gubbio, domani sera alle 21 allo Stadio Benelli. 1-2 il risultato finale anche al Mancini tra Alma Juventus Fano e San Benedettese, con i Granata che vengono beffati al 96esimo, inciampando sulla terza sconfitta nelle ultime quattro. Nel campionato di calcio a 5 pareggio soporifero dell'Ital Service Pesaro, che sul parquet di Catania non va oltre il 3-3 finale. Sul tabellino dei marcatori spiccano per i biancorossi le reti di Canal, Schiosce e Miguel, che di fatto non bastano per accaparrarsi la vittoria. Giornata da dimenticare invece per la Fiorini e Rugby Pesaro. Ad Avezzano arriva la terza sconfitta con gli abruzzesi che vincono per 25-0, facendo scivolare i kiwi al settimo posto in classifica superati da Primavera e Perugia. K.O. anche per la Megabox Vallefoglia, che cade al Palacarnaroli di Urbino, contro Casal Maggiore per 3-7 a 2, che determina la quarta sconfitta consecutiva per le Tigri.